Buongiorno, quest'oggi parleremo dei criteri ambientali minimi nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici e più in generale anche del Green Economy e del Green Public Procurement, che è un tema molto importante e sempre più attuale. La Commissione Europea infatti ha definito già con un documento del 2011 la Green Economy come un'economia che genera una particolare crescita, crea lavoro e sradica anche la povertà investendo e salvaguardando le risorse del capitale, salvaguardando in particolare anche quelle che sono le risorse del nostro pianeta. Pertanto con il termine Green Economy noi oggi andiamo ad indicare quella che è una visione economica diversa, cioè tesa a quantificare e valutare le implicazioni di carattere ambientale generate dalla produzione di beni e servizi. Quindi questa nuova metodologia, questa nuova visione comprende tutta una serie di metodi e procedure di valutazione di impatto ambientale, tra cui appunto quella dell'attuazione nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici, l'applicazione dei cosiddetti criteri ambientali minimi. I criteri ambientali minimi costituiscono tra l'altro un'applicazione peculiare del cosiddetto Green Public Procurement, cioè i cosiddetti acquisti verdi o appalti verdi. La Commissione Europea ha anche in questo caso dato una definizione specifica per cui sono definiti nell'ambito del GPP una serie di acquisti determinati con un approccio integrato dei classici criteri di valutazione, in particolare quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi il criterio elettivo del nuovo codice dei contratti, integrati appunto con una serie di valutazioni di tipo ambientale, intese proprio a generare il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita delle opere, dei beni, del fornitore o dei servizi. Tra l'altro in ambito europeo si sta assistendo ad un ulteriore sviluppo, o meglio un'evoluzione del Green Public Procurement verso gli acquisti cosiddetti sostenibili, per cui oltre ad includere nell'ambito delle politiche ambientali una serie di normative intese a salvaguardare l'impatto ambientale, si tende anche a considerare anche nell'ambito degli acquisti, degli affidamenti di contratti pubblici quelli che sono i temi di tipo sociale, oltre che i temi di tipo economico, per cui sostanzialmente gli acquisti verdi si tramutano in acquisti sostenibili bilanciando questi tre pilastri, quindi uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale ed economico. E questa valutazione va fatta in tutti gli ambiti nei quali si sviluppano gli acquisti, o meglio ancora l'affidamento dei contratti pubblici, per cui si va dalla fase di indizione della procedura, ancora prima dalla fase di programmazione degli acquisti, fino all'affidamento e poi nella fase di esecuzione dei contratti. Ed infatti il codice, decreto legislativo 50 del 2016, nuovo codice dei contratti pubblici, nell'enunciare i principi generali per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti, afferma che addirittura anche il principio di economicità può essere subordinato ai criteri intesi alla salvaguardia in particolare dell'ambiente. Per cui, come dicevo, l'esigenza di rispondere a criteri ambientali minimi che vadano a salvaguardare lo sviluppo sostenibile degli acquisti è un tema che permea l'intero ciclo degli appalti, per cui si parte dalla progettazione, dall'elaborazione del bando di gara, la fissazione dei requisiti di partecipazione dei concorrenti alla procedura di gara, fino alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte, nonché le condizioni di esecuzione dell'appalto e dei subappalti. Per quanto riguarda la struttura di questi criteri ambientali minimi, possiamo indicare una strutturazione comune a tutti i decreti che riguardano i CAM, sebbene poi ognuno nella sua singola specificità, ma sono tutti strutturati innanzitutto con una premessa nella quale viene riportata la normativa di riferimento rispetto alla quale il Ministero ha predisposto il singolo criterio ambientale minimo. Ci sono quindi le normative anche di ambito sociale, di riferimento, tutti i suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti anche in fase di analisi del fabbisogno, quindi anche di programmazione degli acquisti, ovvero anche eventualmente un documento tecnico di accompagnamento che spiega quali sono le finalità specifiche del singolo criterio ambientale minimo. Vi è poi una sezione specifica nel quale viene definito l'oggetto dell'appalto rispetto al quale il criterio ambientale minimo trova applicazione. In questa parte dei CAM viene di solito evidenziata l'aspetto della sostenibilità ambientale o della sostenibilità sociale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali e sociali nella procedura di gara, per cui le stazioni appaltanti di solito dovrebbero sempre indicare nella lec specialis, quindi negli atti di gara, qual è il decreto ministeriale, quindi qual è il CAM sostanzialmente che è stato applicato proprio per l'indizione e lo svolgimento di quella determinata procedura. Ci sono poi i criteri ambientali minimi propriamente detti che sono sostanzialmente poi inseriti nella parte tecnica del documento, del singolo decreto. In questa parte abbiamo innanzitutto una sezione dedicata a quelli che sono i criteri per la selezione dei candidati, quindi sostanzialmente i requisiti di qualificazione soggettiva ai quali le imprese concorrenti devono rispondere per comprovare la propria capacità tecnica ad eseguire l'appalto in maniera conforme a quello che è definito nel singolo decreto ministeriale. C'è poi la parte contenente le specifiche tecniche vere e proprie, quindi i criteri ambientali minimi veri e propri, per cui vengono definite qui le caratteristiche tecniche specifiche ai quali le opere, i prodotti, quindi le forniture o i servizi devono necessariamente rispondere a pena di ammissibilità per l'offerta. Nella seconda parte vengono poi evidenziati anche i cosiddetti criteri premianti. Sono questi dei criteri che rispondono sempre a specifiche tecniche delle offerte che però possono essere utilizzati per l'attribuzione del punteggio nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi si vanno sostanzialmente a premiare delle prestazioni ambientali migliorative rispetto a quelle che sono i criteri ambientali minimi già previsti nel decreto ministeriale. Ogni criterio ambientale minimo, poi ogni CAM, contiene le proprie clausole contrattuali che le stazioni appaltanti devono poi riportare nella bozza di contratto da utilizzare chiaramente in ambito della procedura di gara e poi concretamente quando si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto. E infine sono dettati sempre nel singolo decreto ministeriale anche quelle che sono le verifiche, ovvero i mezzi di prova da richiedere agli operatori economici e quelle che sono le verifiche concrete da attuare in particolare da parte del responsabile unico del procedimento anche coadiuvato dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione affinché poi i singoli criteri ambientali minimi, i singoli decreti vengano effettivamente rispettati in fase di esecuzione. Ribadiamo in conclusione che sulla concreta applicazione di questi criteri ambientali minimi che sono poi anche continuamente aggiornati sul sito del ministero dell'ambiente è stato attivato un monitoraggio da parte dell'ANAC ai sensi dell'articolo 213,9 del codice dei contratti per cui attraverso i singoli osservatori regionali viene costantemente monitorato non solo l'utilizzo nelle procedure di gara dei criteri ambientali minimi ma anche poi il raggiungimento degli obiettivi definiti dal piano nazionale di azione proprio sul Green Public Procurement.